Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A12 pioggia tra Pisa Centro e l'allacciamento per la statale Uno Aurelia. Il raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la Uno di Firenze in Pruneta. Sulla Fibili per intervento di riprissino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, a Mantignano-Ugnano, in corso i lavori dell'ultimo tratto di strada. Buon si Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!